L'iniziativa alla quale abbiamo partecipato volentieri, sulla quale c'è già un impegno fortissimo delle forze di polizia, l'impegno per il futuro è di metterla a sistema ancora meglio destinando risorse anche di carattere economico che il Ministero dell'Interno già in qualche modo riserva alle iniziative contro questo fenomeno e sviluppando sempre di più una rete, un raccordo tra iniziative che ci sono sul territorio valorizzando quello che è emerso dall'incontro la grande sensibilità delle forze di polizia anche oltre i loro compiti istituzionali.